Mentre in Arena si sta concludendo la stagione lirica che ha registrato oltre mezzo milione di spettatori, viene presentato l'Oscar della Lirica, evento internazionale promosso dalla Fondazione Verona per l'Arena, una iniziativa che è maturata all'interno del mondo del melodramma e ha il patrocinio delle più alte cariche dello Stato. L'Oscar, scultura in oro, opera dello scultore orafo veneziano Alberto Zucchetta, costituirà un prestigioso riconoscimento che andrà non solo a cantanti e musicisti, ma anche a registi, scenografi, costumisti, tecnici, cioè i protagonisti dell'opera lirica. Quella del 31 agosto sarà uno straordinario viaggio nel mondo della lirica tra passato, presente e futuro. Una serata magica nel corso della quale premeremo i miti di sempre con l'Oscar, i miti di sempre che quest'anno abbiamo scelto la Callas, Tebaldi e del Monaco, daremo l'Oscar alla carriera alla Freni e a Bergonzi, verranno premiati i giovani talenti della New Generation e premeremo anche con il The Golden Opera alcuni cantanti che sono stati scelti per particolari caratteristiche canore. Il conduttore è un grande attore di cinema e teatro che è Massimo Ghini, avremo la partecipazione anche straordinaria di Michele Placido, madrina della Katia Ricciarelli e tante altre sorprese. Nel corso della serata spettacolo dell'Oscar dell'Opera Lirica sarà reso un particolare omaggio ai grandi cantanti che hanno contribuito ad arricchire la storia di questa importante pagina della nostra cultura musicale. Sicuramente lo è e come ho detto prima bisogna sapere se si ama bisogna sapere anche quali sono i problemi, i difetti e le cose e tenerla viva assolutamente cercando anche di andare a pari passo con i tempi. Questa è una cosa grande, da anni se ne parlava e sono contenta che sia andata in porto grazie a Troisi e a tutti coloro che l'hanno sostenuto, al sindaco eccetera, sono tanti da ringraziare, quindi sono felice per questo. Ci vediamo tutti il 31. Grazie a tutti.